Oltre 100 studenti in spiaggia per ripulire la foce della fossa dell'abate. Si è svolta questa mattina la giornata ecologica organizzata dal Consorzio di Bonifica, che ha coinvolto ragazzi e ragazze del Marco Polo Viani di Viareggio. I giovanissimi, armati di pinze, acchiapparifiuti e pettorina, hanno trascorso una mattina all'insegna del divertimento e della pulizia degli ambienti marini, che sono stati liberati dai rifiuti abbandonati. Circa 50 i sacchi di immondizia raccolti. È un evento anche festoso, come vedete ci sono ragazzi che partecipano molto volentieri, ma soprattutto è importante il messaggio che viene dato a queste nuove generazioni, cioè di tenere conto di quello che è appunto l'ambiente, di curarlo. Loro lo fanno per gioco ma moltamente diventerà un impegno futuro, perché appunto a quell'età lì si assimila proprio tutti i principi che noi gli abbiamo trasmesso. La raccolta dei rifiuti è infatti la tappa finale di un percorso che porta l'ente nelle scuole a parlare dell'importanza dei fiumi e dei corsi d'acqua e del valore della salvaguardia degli ecosistemi naturali.